La birra di oggi è una double tutta italiana ed è la Idra di Opera. Incominciamo come al solito con la scheda tecnica di questa birra. Allora il birrificio in questione è un birrificio italiano, si tratta di Opera, birrificio che, scusate il gioco di parole, ma opera principalmente nel nord Italia. La sede è a Pavia, anche se ho trovato spesso le loro birre più sul milanese. Lo stile di questa birra è una double, il grado alcolico sono 8 gradi. Il prezzo al momento non me lo ricordo, l'ho acquistata ad un cash and carry, ma purtroppo, scusatemi, non ho segnato il prezzo. Il bicchiere suggerito è direi o un bicchiere a chiudere, tipo il turipano, o anche una coppa per le birre trappiste, data la tradizione di questo stile, e non si tratta di un primo assaggio. Allora, partiamo dal bicchiere. Lo stile d'Abel è tipicamente associato alle birre trappiste, quindi potrebbe essere anche bevuta questa birra in una coppa come questa qui di Orval, che è una coppa trappista. Questi bicchieri però sono aperti, quindi hanno dei pro e dei contro. Per Orval, per esempio, che ha una schiuma molto molto persistente, molto fitta, può andare bene. Per altre birre, secondo me, i bicchiere a chiudere sono un pochino meglio, perché appunto chiudono e trattengono meglio alcuni aromi. vanno comunque bene entrambi. Forse questo è un approccio un po' più tradizionale, mentre questo qui, il turipano è un bicchiere, che sulla scena brassicola arriva recentemente, negli ultimi anni. Dicevamo appunto lo stile antico, e comunque legato alla tradizione monastica e trappista, perché infatti le d'Abel sono birre, che solitamente vengono appunto associate alla tradizione, nelle birre prodotte dai monaci, e se non erro, proprio il termine D'Abel deriva dall'utilizzo che faceva Westmall con la sua appunto Westmall D'Abel, che è un po' la birra simbolo di riferimento per questo stile, così come la Westmall Triple poi diventa un po' la birra simbolo per indicare questo stile tradizionale begga. Molti dei nomi che oggi noi usiamo per indicare gli stili brassicoli sono abbastanza recenti, nel senso intendo la seconda metà del Novecento, più o meno. Lo stesso concetto di stile è un concetto abbastanza recente. Leggevo poco fa che la prima volta che si utilizza il termine appunto stile per indicare le diverse differenze nella produzione di birra. Si cerca di creare quindi le linee guida, i paletti che oggi noi definiamo i diversi stili. È un discorso che si iniziava a fare negli anni 70, quindi sono relativamente pochi anni che si utilizza una terminologia così specifica per indicare un tipo di birra. Comunque lo stile per inquadrarci è quello alte fermentazioni, belgio, birre scure, dove il malto è sempre abbastanza protagonista, sempre molto ottenuati. Dipende un po' dalle versioni, questa fa 8 gradi, quindi siamo davvero in una fascia un po' più alta. Solitamente le double hanno una gradazione alcolica inferiore rispetto alle triple, però comunque siamo in quel mondo. Per quanto riguarda il produttore, opera, dicevo, birrificio con sede a Pavia, in Lombardia. Tutta questa loro linea ha i nomi e la grafica che si fa alla mitologia classica europea, diciamo greca e romana. In questo caso appunto la bottiglia è una bottiglia di vetro marrone, tappo grigio neutro. Sulla parte frontale c'è appunto il nome Idra, il logo del birrificio è appunto una maschera di medusa, credo, però, perché si intravedono dei serpenti o comunque dei rettili al posto dei capelli. E' appunto la scritta Idra Double. Sul retro ci sono gli ingredienti, acqua malto d'orzo, zucchero candito, orzo. Interessante che c'è sia quindi dell'orzo maltato sia dell'orzo non maltato. Luppolo, sciroppo d'acero, viene anche inserito e lievito. Non sono sicuro, ma lo sciroppo d'acero potrebbe essere inserito forse per la seconda fermentazione, però non lo so e non vorrei dare informazioni errate. 8 gradi, vabbè, e tutti i riferimenti del birrificio, compreso sito internet, social, eccetera, eccetera. Ok, diciamo, direi che ho detto già abbastanza su questa birra, quindi possiamo aprirla. Ok, non verso il fondo, perché c'è un discreto fondo, appunto, di lievito esausto. E allora, il bicchiere è un pochino grande. Ho preso questo bicchiere della Double semplicemente perché era un bicchiere a tulipano che avevo a portata di mano. La birra ha un bellissimo colore ambrato con dei riflessi molto, molto luminosi di colore rosso. La schiuma ha una grana molto fine e, devo dire, abbastanza regolare. Per quanto riguarda lo stile, i colori più o meno, appunto, spaziano dal bruno al rosso, o meglio, all'ambrato, per essere precisi. Comunque, il colore, appunto, rientra perfettamente nello stile di questa birra. I profumi già sono interessantissimi, già da questa distanza. Ma vediamo meglio al naso. Molto, molto intenso e molto interessante il naso. Allora, c'è sicuramente della frutta e direi frutta rossa, direi ciliegie o amarene, comunque quel tipo di frutta. Si sente tanto il caramello, comunque lo zucchero candito, insomma, si sente questa tipologia di aromi e forse si sente anche un po' di spezie, mi verrebbe da dire, tipo chiodi di garofano o cose di questo tipo. Insomma, si sente subito che siamo in Belgio. Questa è una bellissima cosa di questa birra, ma vediamo anche in bocca com'è. Allora, esattamente quello che ci aspettavamo, ammetto di conoscere questa birra, di averne già bevuta parecchia, perché, piccolo spoiler, è secondo me una delle birre più buone che ci siano per quanto riguarda questo stile, per quanto riguarda le dabble italiane, è sicuramente eccezionale. E infatti in bocca è esattamente come me lo aspetto se bevo una dabble. Quindi un'apertura dolce, con tanto tanto malto, quindi che va tanto verso il miele e verso la frutta. Si sente subito, non subito, ma comunque si sente l'alcol. Infatti 8 gradi mi sembrano un po' tanti rispetto ad altre dabble, comunque rispetto ad altre birre su questo stile. Però si sente l'alcol, non è un alcol fastidioso, ma si fa sentire. Il finale è leggermente amaro, ma proprio davvero, per quanto riguarda l'intensità, direi medio-bassa, l'intensità appunto dell'amaro percepito. E resta tutto un retrogusto, un retrolfatto, che va ancora sulla frutta e sul miele principalmente. Il corpo è abbastanza leggero, direi medio o medio-leggero, è una frizzantezza molto molto tenue, insomma rientra perfettamente nello stile, è una birra piuttosto facile da bere, nonostante gli 8 gradi, perché comunque è molto molto dolce. E se vi piacciono in generale le birre tradizionali, belghe, questa rientra bene in questo stile. È difficile da bere da sola, secondo me la morte sua di questa birra è ovviamente con qualche dolce, potrebbe essere un dolce a base di cioccolato, cose di questo tipo, perché si sposerebbero benissimo assieme. Questa quindi è la idra di opera Skull. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.